buongiorno a tutti buongiorno a tutti oggi è martedì nove aprile duemila e ventiquattro e siamo qui per l'editoriale di live bianconera perché perché ieri c'è stato un piccolo indizio di un prossimo acquisto da parte della Juventus ma prima di parlarne come al solito devo marchettare quindi iscrivetevi al canale lasciate un commento lasciate un like attivate la campanella delle notifiche così eh YouTube è contenta io sono più contento voi siete più contenti che siete aggiornati al passo di live bianconera e tutti quanti siamo felici verso questa nuova stagione di cambio panchine e calcio mercato perché oggi parleremo appunto di calcio mercato ieri Fabrizio Romano Matteo Moretto e tutti gli altri media molto esperti di questo settore che è il calcio mercato hanno eh praticamente non dico ufficializzato perché l'ufficialità arriva solamente con le firme ricordatevelo ma hanno ehm dato per ufficioso mettiamola così il primo acquisto della Juventus di giuntoli del ventiquattro venticinque sarà un parametro zero gioca nella Lazio e un esterno d'attacco vi sto dando tanti indizi ed è Felipe Anderson Felipe Anderson allora la mia prima reazione vi parlo a titolo personale poi andremo un pochino sui dettagli la mia prima reazione è stata alla romana ma che davvero davvero esatto eh perché il giocatore sinceramente lo trovo un po' discontinuo non mi ha mai fatto impazzire però passando i minuti passando i minuti ehm scandagliando un pochino dettagli eh e facendo mente locale della situazione della Juventus io riesco sono riuscito almeno forse per opera di autoconvincimento e non voglio convincere per forza voi a dare un senso all'operazione parametro zero Felipe Anderson andiamo con ordine Felipe Anderson è un calciatore di eh trentuno anni non vorrei sbagliare adesso controllo un attimo eh Felipe Anderson ha la bellezza sì esatto ha trent'anni ma gli fa eh il quindici aprile quindi tra una settimana festeggerà trentuno anni eh vero quindi già è un over trenta e voi mi direte ma come la Juve deve essere giovane sostenibile andiamo a prendere un parametro zero di trentuno anni vero avete ragione però va anche detto che eh è un giocatore abbastanza integro eh non ha avuto grossi infortuni nella carriera speriamo che non ne avrà mai nemmeno con la maglietta della Juventus e quindi questo è già un indizio che va a favore di Filippetto ah mi dimenticavo eh il soprannome che non è un soprannome nemmeno un soprannome il modo in cui io chiamerò Felipe Anderson durante questo video durante tutta la prossima stagione sarà Filippetto perché perché un grande raziale che ogni tanto ascolto per radio che Franco Meri lo chiama Filippetto e quindi sono abituato a chiamarlo Filippetto per me sarà sempre Filippetto perfetto quindi ehm giocatore di trentuno anni ma abbastanza integro attenzione la Juventus secondo me con quest'operazione ci dà un indizio su quello che sarà il futuro della panchina perché Felipe Anderson è un esterno d'attacco ma il meglio nella sua carriera ma anche negli ultimi anni lo dà in un attacco a tre partendo appunto dall'esterno è un esterno alto non è un giocatore da tre cinque due a tutta la tutta la fascia non la può fare la seconda punta eh di fianco ad una prima che potrebbe essere Vlauic non la può fare ovvero quello che sta facendo Chiesa eh quest'anno praticamente costretto a fare dei movimenti che non ha mai fatto nella carriera eh ed è un calciatore che si trova molto bene nel quattro tre tre o nel quattro due tre uno mi sembra un forte indizio sicuramente di un cambio modulo eh e poi anche di un utilizzo appunto di questo calciatore in una determinata zona di campo senza relegarlo a compiti eh diciamo molto molto difensivi e quindi questo è un primo indizio l'altra cosa che posso dirvi è che devo verificare bene lo lo ammetto ma pare proprio che Felipe Anderson usufruirà ancora del decreto crescita quindi ora le cifre del contratto si aggirerebbero attorno ai tre e mezzo eh forse anche quattro ma la Juventus potrebbe usufruire del decreto crescita almeno è questo quello che ha scritto Fabiana della valle non oggi ma due mesi fa quando iniziava a parlare di questa trattativa che evidentemente è giunta eh a buon fine per tutte le parti coinvolte compresa quella dell'Otito che se la prende in quel posto perché voleva rinnovare il calciatore e il calciatore ha detto no 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 vado alla Juventus perfetto ehm e adesso andiamo sulla parte che mi interessa di più ovvero la costruzione della rosa della Juventus ventiquattro venticinque partendo non da Felipe Anderson come punto fermo e pilastro perché non lo sarà ma l'acquisto a parametro zero di Felipe Anderson ci dà tanti indizi ripeto il primo che è una mia idea non supportata dai fatti ma secondo me lo sarà a giugno luglio agosto e che la Juventus farà tante operazioni entrata uscita la Juventus farà ripeto ancora tante operazioni la squadra di quest'anno non verrà confermata e non perché sia scarsa ma perché ragazzi ci sono tante scadenze nel venti ventiquattro e nel venti venticinque chiesa è una scadenza venti venticinque rinnova non lo sappiamo se rinnova healing è una scadenza venti venticinque rinnova se rinnova le nostre condizioni lo teniamo se eh healing vuole andare altrove o ha delle pretese che noi non possiamo permetterci il partirà ragazzi dobbiamo renderci conto che la situazione è questa qui Rabiotto scadenza venti venti vinti quattro siamo già al nove di aprile mi sembra un po' tardi per rinnovare a meno che non faccia l'annuale come l'anno scorso ma vorrebbe dire che sono disperati alla Juventus ed è disperato Rabiotto mi sembra il caso non lo so non lo so e poi altri calciatori altri calciatori che ancora ehm hanno una situazione contrattuale che la Juventus magari vorrebbe sistemare o terminare vi faccio dei nomi Scesni Scesni a noi a me piace tantissimo Scesni a me piace tantissimo ma Scesni prende tanto vuole rinnovare a ribasso nel caso tech resta resta con noi bene altrimenti 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 e Scesni potrà anche pensare di trovarsi una nuova sistemazione non voglio fare terrorismo ragazzi ma è la realtà dei fatti eh bisogna rispettare certi parametri economici altri calciatori in uscita eh appunto Rabiotto io non dico non dico Scesni ma potrebbe essere un iniziato Kostic però secondo me è un iniziato ad uscire UEA un giocatore che sinceramente non ha né arte né parte secondo me è destinato ad uscire eh Kostic forse l'ho già detto sì Ealing l'ho già nominato quello che ha più mercato ragazzi la Juventus e Bremer sareste sorpresi se la Juventus cedesse Bremer perché stanno uscendo tutte queste voci sul calafiori evidentemente ci sarà un passaggio la difesa a tre la difesa a quattro e forse non voglio fare terrorismo altrimenti mi accusate avete ragione ma magari l'indiziato eh a partire quello che ha più mercato potrebbe essere Bremer poi io lo terrei pure perché sarei curioso di vederlo in una difesa a quattro ma le vie del mercato ragazzi uno sono infinite due dipendono dal del dal tipo di appunto di offerte che ti arrivano no? Eh e quindi pensiamo a questo per sostituire tutti questi calciatori magari non tutti magari non tutti ma una piccola parte di questi vuol dire cacciare moneta per tanti calciatori eh quindi sostituito di Rabiot Kostic Wea Ealing forse Bremer forse Scesni ma forse Chiesa diciamoli tutti ragazzi diciamoli tutti va bene vuol dire fare un altro aumento di capitale di trecento milioni la Juventus non lo può fare quindi quindi l'arrivo di occasioni di mercato un parametro zero alla Felipe Anderson che potrebbe anche usufruire del decreto crescita vedete che ha senso ha senso ha senso magari non sarà il primo della lista come dicevano ieri le storie tese ma neanche l'ultimo degli stronzi quindi dovete eh secondo me guardare non sia al calciatore ma alla big picture al al complessivo di quello che sarà un progetto di Juve ventiquattro venticinque e secondo me si va ripeto in una direzione in cui tra entrata e uscita vedremo tante tante operazioni in più volevo sottolineare cosa eh volevo sottolineare il fatto che la Juventus il prossimo anno non giocherà solamente il campionato la Juventus il prossimo anno giocherà trentotto partite di campionato la UEFA Champions League molto probabilmente con un'edizione che eh allunga anche il brodo perché ci saranno almeno due altre partite nel girone e poi il resto sarà eh come il format abituale ma ce ne sono altre due le partite all'interno della competizione stessa non solo la Juventus avrà la Coppa Italia e magari ci andrà in finale anche quest'anno se dovesse vincerla la Coppa Italia quella di quest'anno giocherà la Supercoppa italiana che non è più una partita ma un torneo di quattro squadre giocato in un paese arabo semifinale finale su altre due partite e poi il mondiale per club e lì se gioca da giugno a luglio su altre partite quante partite fanno? Sessantacinque? Settanta? Eh vuol dire allungare la rosa vuol dire che ne devi avere tanti se la Juve il prossimo anno vorrà giocare quattro tre tre facciamo finta vuol dire che devi avere una batteria di esterni due da una parte almeno e due dall'altra e considerando che oggi abbiamo solamente chiesa healing come esterno possiamo anche considerare il Dizio ma il Dizio magari considerano l'esterno facciamo un po' di fatica o comunque vediamo eh se cosa vorrà farci eventualmente il prossimo allenatore. Sule per esempio è un giocatore che potrebbe tornare è un giocatore che potrebbe tornare ma è un giocatore subito da lancia titolare entra nelle rotazioni e vedete che per esempio eh Sule Felipe Anderson se resta chiesa più un altro lì puoi consegnare una squadra in grado di competere per settanta partite sessantacinque partite altrimenti i ragazzi diventa difficile diventa una battaglia eh fisica e molti calciatori arrivano spimpati già a febbraio marzo e non credo che questo sia il caso eh per quanto riguarda il resto della squadra io prendo la rassegna stampa di oggi si parla sempre di appunto calafiori ormai dicono che è praticamente fatto eh come operazione parliamo un attimino nel senso il Bologna chiede venticinque trenta milioni di euro secondo me sono tanti lo lo ammetto secondo me sono tanti quello che però vorrebbe fare la Juventus è inserire qualche giovane all'interno della trattativa e con giovane non si intende Sule non si intende Barnecea non si intende non lo so eh healing junior almeno per quanto mi riguarda in questo momento quello che so ma magari giovani tipo Barbieri Facundo Gonzales eh gente di questo tipo qui magari anche molto promottente ma che eh servirebbe ad abbassare le pretese di Sartori a proposito di Sartori oggi è uscito un altro articolo sul Corriere dello Sport il Bologna è stufo eh delle voci di Tiago Motta alla Juventus e sì c'è un piccolo problema potrà anche essere stufo e vediamo se lo è il fatto che lo scriva Zazzaroni sul Corriere dello Sport già mi fa un pochino sorridere no perché mi sembra che stia eh battagliando da un bel po' per la permanenza di Alleghi sulla panchina della Juve la cosa che però fa più riflettere e far ridere a noi che sappiamo le cose a noi intendo non me ma anche voi che state guardando questo contenuto è questo il Bologna può essere nervoso quanto vuole ma Tiago Motta in carenza di contratto al 30 giugno 2024 vuol dire che Tiago Motta teoricamente è libero da fermare col Real Madrid con la Juve con lo United con tutte le squadre che vuole quindi eh puoi essere Zazzaroni dillo sono io caro caro pubblico nervoso non nel Bologna Bologna è già rassegnato a perdere Tiago Motta mi pare di capire sarà interessante vedere chi andrà al Bologna chi andrà al Bologna se avrà avrà anche l'opportunità di giocare la UEFA Champions League e sarà un discorso molto molto interessante molto interessante per quanto riguarda la situazione panchine ieri ci sono stati un paio di tweet di Pedulla ma anche di Schira sulla situazione del Napoli ehm ne parlo brevemente ragazzi perché sapete che qui in questo territoriale facciamo tutte le cose veloci 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 si parla di a Aurelio De Laurentiis che avrebbe offerto otto milioni ne parla anche il mattino stamattina scusate il gioco di parole ad Antonio Conte io devo essere molto onesto con voi se Conte andasse Napoli sinceramente un po' mi deluderebbe per quale motivo ma con tutto il rispetto per Napoli per il Napoli che è anche una bella squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato però mi sembra una situazione un po' difficile e soprattutto con la presa e l'avvento di Manna che me lo descrivono giovane bravo di belle speranze ma fumantino io mi immagino una scena ragazzi magari la estremizzo per farvi ridere una stanza a Castelvolturno dentro in questa stanza piccola Aurelio De Laurentiis Antonio Conte e Manna oh ragazzi ci sarebbe da fare una roba tipo lol però chi chi mena per primo vince chi mena per primo vince non lo so come potrebbe finire mi sembra una situazione abbastanza esplosiva quella del Napoli sinceramente nonostante ripeto l'offerta magari di otto milioni può essere anche allettante fossi Conte io aspetterei non tanto la Juventus ma magari qualche altra panchina che si libera in giro per l'Europa una nazionale eh che magari flopperà agli europei del duemila e ventiquattro in Germania flop allora le chiama Conte però il Napoli non lo so non mi convince anche perché cederà Osimè avrà scelte difficili il Napoli c'è per esempio un rinnovo da fare a Meret c'è la situazione di Paraschelia che anche lui è in scadenza di contratto e va adeguato quel contratto ma Paraschelia oggi mi sembra contentissimo della sua situazione economica anche perché è arrivato in Italia da sconosciuto con un contratto no da non dico da da prendistato ma quasi questo ha vinto un campionato comunque sta facendo una stagione non dico brutta ma dignitosa sì che anche trascinato ogni tanto il Napoli potrà dire al suo agente al Napoli scusate ma io chi sono l'ultimo di fessi io sono un giocatore che ha spostato al Napoli e quindi merito un adeguamento di contratto quindi io fossi Conte sinceramente al Napoli non ci andrei e qui è il tifoso juventino che parla se fosse andato dritto dritto al Milan e il Milan sembra incredibilmente orientato a tenere Pioli o a prendere Lopetegui ma credo che Pioli sia ormai per questo finale di campionato l'indiziato per l'arrestare mi sembra incredibile ma è così se Conte fosse andato al Milan sinceramente al tifoso l'avrei tenuto avrei tenuto Conte al Milan perché ritengo il Milan una squadra molto forte Conte al Napoli lo devo dire lo temo un po' di meno quindi sarà sarebbe interessante anche dal punto di vista della curiosità della curiosità che avremmo da appassionati permettetemi da estimatore di Conte mi farebbe un po' di dispiacere vederlo accettare quasi risperatamente in cerca di panchina appunto la guida tecnica della squadra posseduta da Aurelio De Laurentiis però vedremo allora 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 per finire questo video anzitutto ditemi la vostra sulla questione di Felipe Anderson ripeto io appena ho visto le cifre o comunque l'accordo ok l'accordo che è stato ribattuto da Fabrizio Romano e Matteo Moretti la prima cosa che è stata domanda davvero ma veramente Felipe Anderson però dopo ci ho pensato e devo dire che l'operazione ripeto ha il suo senso ma scrivetemi nei commenti se vi piace o meno questo apporto alla nuova Rosa Juve 24 25 cercando di venirci un po' incontro non che dovete pensarla come me ma comunque di capire no eh se l'operazione ha senso dal punto di vista dei tanti parametri che abbiamo elencato in questo contenuto eh l'altra cosa che voglio dirvi è che oggi al Caffè di La Bianconera ore quindici e trenta avremo anche un ospite che non verrà subito ma in corsa che è Giuseppe Pastore che lo conoscete tutti grande anima di eh cronache di spogliatoio di un format che io adoro che è Fontana di Trevi e quindi avremo il piacere di parlare eh con lui della Juventus di quest'anno e magari anche della Juventus del futuro della Juventus del futuro ragazzi questo contenuto termina qui iscrivetevi campanella notifica like e tutto quello che potete fare per lb fatelo sempre che male non fa eh dal direttur tutto io vi saluto e vi rimando alle quindici e trenta su Twitch ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie a tutti